Sono diverse le aziende in crisi in basso molise, tra queste spicca la Ircecavi di Guglionesi. Per la storica azienda non ci sono più le condizioni per mantenere tutti i 93 dipendenti a causa del calo della produzione e delle minori richieste del mercato. Ora 65 addetti rischiano di perdere il posto di lavoro, ma Regione, Sindacati e la stessa azienda stanno valutando le possibili soluzioni per evitare i licenziamenti. Sul tavolo c'è il ricorso agli ammortizzatori sociali con l'ipotesi della cassa integrazione in deroga da mantenere nel periodo che serve per allontanare la procedura di mobilità. Un quadro in evoluzione all'indomani di un incontro informale avvenuto tra la direzione aziendale e i sindacati e dopo il decreto del governo sugli ammortizzatori in deroga. Una strada alternativa rispetto alla mobilità, ma anche all'ipotesi dell'eventuale accompagnamento per chi è disposto a lasciare la fabbrica dietro incentivi. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più per una vicenda ancora densa di incertezza che riguarda numerose famiglie, molte monoreddito. L'aspettativa, affermato il segretario regionale della Wiltec, Carlo Scarati, è quella di conservare e consolidare uno dei primi stabilimenti nati nel nucleo industriale di Termoli, facendo leva sulla proprietà che, ha osservato il rappresentante di categoria, sta dimostrando vicinanza alle maestranze e ci potrà permettere di mantenere i livelli occupazionali all'impianto di Guglionesi. Grazie. 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 Grazie.